Senatore Centinaio, che cosa sta accadendo a Firenze? Semplicemente l'amministrazione comunale di Firenze, in collaborazione con, pensiamo, Ferrovie dello Stato, l'abbiamo chiesto in questo momento al Ministero dell'Interno, ha deciso che i sottopassi che uniscono i binari dove arrivano a Firenze i treni Frecciarossa, che sono i treni che portano nella città fiorentina i turisti e i manager, devono essere chiusi, devono essere chiusi negli orari dalle 7.30 alle ore 17.30. Il motivo è molto semplice, perché in questo momento l'amministrazione fiorentina non è in grado di combattere tutto quello che è l'abusivismo e soprattutto tutto quello che è i questuanti, in particolar modo Famiglia Rom, che stanno invadendo oltre che Firenze e anche la sua stazione. E quindi la domanda che stiamo ponendo semplicemente al Ministro è quella che se siamo nelle condizioni e se possiamo parlare di un'invasione, se possiamo parlare di una inefficienza da parte del Comune e sicuramente da parte dello Stato, perché la stazione comunque è di proprietà dello Stato, perché ci siamo resi di fronte appunto a questa invasione di persone che vanno a chiedere la questua e in questo momento disturbano tutte le decine di migliaia di turisti che arrivano a Firenze.